Ecco il primo corteo, Pieramosca città della disfida, questi sono di Barnetta per annunciare l'inizio della settimana meditana Ah no, pensavo che avessero finito, invece no Vai, un, tre, e girano di qua Adesso tocca gli sbandenatori A breve, una prossima ripresa in un'altra via Ora si esibiscono sventolando le bandiere Aspento? Ah ti